La trattativa c'è e corre sul filo del telefono. Il sindaco festa alla supervisiona perché è alla società, spiega il primo cittadino che aspetta ogni valutazione dopo aver espresso la volontà di vendere calcio e basket insieme, non separate. Festa concorda anche se la concentrazione della società nelle mani di una sola persona, anche in futuro con nuove proprietà, in caso di nuove crisi metterebbe a repentaglio entrambi gli sport. Valutazioni economiche top secret. Il primo cittadino si limita alla cessione gratis, lasciando poi ad eventuali contabili il compito di spulciare le carte. C'è ancora tempo per la trattativa, almeno fino alla prossima settimana, quando la scandone dovrà saldare il conto per non autoretrocedere. Per il sindaco la priorità assoluta resta il salvataggio di basket e calcio. Sono contatti e trattative che in questo momento tiene in prima persona De Cesare, il presidente Mauriello. A me toccherà l'onere di sovrintendere, di controllare che queste trattative poi terminino con l'acquisizione da parte di gruppi solidi. Al momento però è giusto che sia la proprietà ad occuparsi di questa vicenda. Noi abbiamo una priorità, quella di salvare il calcio e il basket. Credo che con grande senso di responsabilità il patron De Cesare, rispetto a una situazione che sta affrontando, relativa alla Sidi Gas Spa, ha dato la disponibilità a cedere gratuitamente i due club. A questo punto bisogna trovare un compratore, qualcuno che abbia una consistenza economica tale da poter garantire un futuro solido ai due club. Bisogna anche trovare chi abbia la voglia di acquisirli insieme. Come primo cittadino c'è l'esigenza, l'obiettivo di salvarli entrambi.